Con una serie di interventi a sostegno delle donne vittime di sfruttamento, il Comune di Napoli aderisce all'avviso pubblico del Dipartimento per le pari opportunità e promuove il Progetto Passo, un piano articolato che mira a rafforzare le attività dello sportello antiviolenza presso il Centro Donna del Comune e della Casa Fiorinda, che offre ospitalità alle donne maltrattate. L'iniziativa, promossa dall'assessorato alle pari opportunità con la cooperativa sociale Dedalus e l'associazione Arcidonna, prevede il potenziamento del servizio di ascolto telefonico e di accoglienza presso le strutture, l'istituzione di un percorso rosa presso il Presidio Ospedaliero del San Paolo e dell'Oretto Mare, oltre a servizi di consulenza psicologica per i minori e di sostegno alla genitorialità. Noi avremo una rete di sportelli delle dieci municipalità. L'idea è di questo centro che adesso si trova al Parco Carelli ma verrà messo più al centro e si relaziona con Prefettura, Questura, Carabinieri e sicuramente l'Asla Napoli 1 e il Tribunale. Quindi una vera e propria rete contro la violenza che avrà questo punto centrale nel centro antiviolenza. Sono previsti inoltre percorsi di orientamento ed inserimento nel mercato del lavoro per le donne che si rivolgono al centro antiviolenza o chiedono accoglienza presso Casa Fiorinda. Sarà costituito un pool specialistico per valutare le conseguenze psicologiche del maltrattamento ai fini dell'azione legale ed un laboratorio di ludopedagogia per i minori vittime di violenza assistita.